Michele Aportone chiede di essere rimesso in libertà. Il legale del settantenne di Sandonaci in carcere con l'accusa dell'omicidio premeditato del maresciallo dei carabinieri in congedo Silvano Nestola ha depositato un'istanza di scarcerazione davanti al tribunale del riesame. L'udienza è stata fissata per il prossimo 19 novembre. Nella memoria depositata dall'avvocata Francesca Conte, difensore di fiducia dell'arrestato, si contesta in particolare l'attendibilità di una prova ritenuta fondamentale, la reale esistenza di particelle di polvere da sparo che sarebbero state individuate su un berretto e su una camicia mimetica dell'imprenditore. E per supportare tale tesi si è affidata la perizia di parte del generale Luciano Garofano, già comandante del RIS di Parma. Analoga linea anche rispetto alle immagini del furgone che lascia l'area di parcheggio per camper Santa Chiara nella marina di Nardò, la difesa sostiene che non esiste alcuna prova che si tratti dello stesso mezzo ripreso dalle telecamere lungo il percorso sino al luogo dell'omicidio. Nell'interrogatorio di garanzia svoltosi il 2 novembre scorso nel carcere di Lecce, a Portone si era avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice che ha emesso nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare per omicidio premeditato aggravato dai futili motivi.